buongiorno oggi 3 febbraio 2021 la giunta comunale da merri unita ha deliberato di elargire un contributo a favore delle attività commerciali artigianali e di prestazioni di servizio per far fronte a quello che è stata l'emergenza covid nell'anno 2020 lo abbiamo fatto ad esito di un lungo confronto che è avvenuto a partire dal consiglio comunale poi con gli uffici che hanno verificato tramite i nostri dati la nostra banca dati qual era la situazione economica delle attività del territorio ebbene abbiamo stabilito di elargire un contributo che varia da 400 a 600 euro chiaramente questo dipende dal tipo di attività ci sono attività che hanno subito maggiormente la crisi altre che hanno subito di meno e quindi ci sarà una differenziazione che potrete trovare nel bando che uscirà la settimana prossima tutto questo devo dire che è stato importante farlo perché lo abbiamo fatto anche a favore delle attività che sono state aperte nel 2020 a differenza dello stato che le ha escluse la settimana prossima come dicevo uscirà il bando dal bando potrete vedere tutti i codici a teco che potranno fare domanda per fare la domanda cosa importante dovete possedere speed e pec perché la procedura che sarà messa in campo sarà tutta una procedura informatizzata che vi consentirà di fare tutto comodamente da casa interloquirete con gli uffici del comune via pec quindi con massima informatizzazione dei procedimenti tutto all'avanguardia come acerra sta diventando una città che offre i servizi al cittadino anche da casa rispettando e le norme anti covid e la comodità del cittadino abbiamo fatto veramente un grande sforzo economico per sostenere le attività del nostro territorio